Tu hai accettato l'incarico di Premier solo per vedermi! Ebbè? E qual è il problema? Ma perché questo è già un paese prendimento allo sbando? Non puoi governarlo per stare con me! È interesse privato, in atto pubblico! Ma mi stai facendo la predica tu? Tu a me, che non hai avuto il coraggio nemmeno di dimmi che c'è un altro? Ma io non ho un altro! E allora perché ti chiudi in stanza con Ivan, eh? Parlate di protocollo! Tu hai dimesso di mezzo nostra figlia! Ma non ti vergogni! Ma vergognati tu! Vergognati tu che ti sei messa con uno peggio di me! Vergognati tu! Ma io non sto con lui! Eh no? Però ci sei stata insieme! Sì, un mese, nove anni fa! E se ci volessi tornarci non sono fatti i tuoi! Ma è possibile che tu non capisca? Il problema non sono gli altri uomini! Ah sì? E qual è il problema? Il problema è che io non posso stare con un uomo rinchiuso in una baita ma nemmeno con un Premier Burattino! Anzi no, lo sai perché? Perché i burattini c'hanno i fili! Tu sei una marionetta! Quelle hanno le mani tirate nel... No! Sto parlando pure come te! Quello che sto cercando di dirti Peppino è che io mi sono innamorata di un uomo che lottava per cambiare l'Italia Ma quell'uomo non c'è più, non esiste più Sì? Va bene! Va bene! Allora lo vuoi sapere che cosa faccio? Eh? Che fai? Cambio l'Italia! E come? A cazzo! Ha istinto! No! 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 Grazie.